Buongiorno amici, bentrovati, oggi siamo a San Candido, siamo in compagnia del titolare dello Sport Hotel Tirol, appunto in centro a San Candido e nonché presidente dell'associazione turistica San Candido Trecime di Lavaredo, giusto? Sì, giusto, il mio nome è Dieter Womberg, come già accennato sono il presidente dell'azienda di soggiorno San Candido e anche del consorzio Trecime Marketing e albergatore a San Candido. Benissimo, la prima domanda sorge spontanea visto che siamo a fine stagione estiva, quali sono i dati dell'affluenza turistica? I dati dell'affluenza turistica sono costanti, sono come l'anno scorso, abbiamo avuto una buona estate, adesso speriamo in un bel autunno che ci assista il tempo e andiamo avanti fino ai morti. Benissimo, diciamo che quest'anno San Candido compie 1250 anni, giusto? Ci sono state numerose manifestazioni ed eventi, quali sono stati quelli maggiormente apprezzati dai turisti? No, dai turisti sono stati apprezzati un po' tutti gli eventi, abbiamo iniziato col Capodanno di San Candido, San Candido uno dei comuni più vecchi di tutto l'arco alpino, poi abbiamo fatto la festa del paese che si svolge ogni due anni con un bel corteo storico, in riferimento ai 1250 anni abbiamo avuto diverse altre manifestazioni come l'incontro in piazza il giovedì sera, i mercatini dell'antiquariato e tante altre cose. Ecco, per quanto riguarda invece la stagione invernale, quali saranno gli eventi maggiori? Sarà sicuramente il nostro tradizionale mercatino natalizio del Dolomiti, che inizierà a novembre? Inizia il 29 di novembre. Perfetto, benissimo, invece parliamo dell'hotel, questa splendida struttura a quattro stelle che potete ammirare alle nostre spalle, quest'anno compie 50 anni, giusto? Abbiamo festeggiato il 19 di luglio, sono in seconda generazione, è un albergo che noi lo chiamiamo la nostra casa, il vostro albergo. Poi io l'ho visto crescere, sono circa 30 anni che ci conosciamo e di conseguenza ricordo ancora quando era un tre stelle, sicuramente molto più ridotto come struttura. Oggi veramente un hotel splendido, diciamo forse uno dei più belli qua della zona e dei più apprezzati. Quali sono le caratteristiche dell'hotel? Allora, la caratteristica più importante è che siamo nel centro e nello stesso momento molto tranquilli e siamo in mezzo al verde. Altra caratteristica è che noi come famiglia siamo sempre presenti e che abbiamo tantissimi nostri collaboratori che lavorano con noi da anni. Questo è molto importante per il cliente. Allora, invitiamo tutti a venire qui a San Candido. Vogliamo fornire di nuovo i numeri telefonici, l'indirizzo internet e l'indirizzo email per potervi contattare? Allora, il nostro numero di telefono è 0474 913 198 e il sito è sporthoteltirol.it Benissimo, ringraziamo allora il signor Titer per averci concesso questa breve intervista. A voi studio. Grazie. Arrivederci.